Ciao ragazzi e bentornati su Tom's, oggi è lunedì 15 luglio e questo video vi proporrà le migliori offerte dedicate solo oggi per il Prime Day, avete già visto il video dedicato appunto alle offerte sia di oggi che di domani quindi a tutto il periodo Prime Day, oggi invece in questo video mi concentro solo sulle offerte di lunedì 15 luglio appunto e parto subito, sono ovviamente di meno rispetto a quelle di cui vi ho parlato nel video precedente ma partirò con le più succose perché comunque qualche chicca c'è e non da poco infatti parto anzitutto dai notebook perché MSI sconta 4 prodotti suoi, un GE75, un GF63, anzi 2 scusate, GF63 in due configurazioni ovviamente differenti una con i5 e l'altra con i7 a bordo e un GL73, in particolare sono notebook che vi pongo sotto la vostra attenzione appunto perché sono dotati di grafiche nuove della nuova generazione Nvidia, in alcuni casi, in un paio di casi di RTX 2060 mentre negli altri due, in particolare nei GF63, troverete nel modello con i5 una 1650 e nel modello con i7 una 1660 quindi sono notebook aggiornati che scendono considerevolmente di prezzo all'incirca di un 20% in meno rispetto al loro prezzo fino a qualche giorno fa se invece siete più dedicati alla parte hardware, beh sappiate che in questo giorno almeno non ci sarà granché a livello appunto di componentistica hardware a parte fatta esclusione per delle memorie perché Crucial e Corsair in questo senso scontano diversi modelli e anche di un po' le memorie già di base sono scese un pochettino di prezzo, anzi considerevolmente di prezzo negli ultimi mesi in questo senso, in questo Prime Day, troverete ulteriori sconti soprattutto per banchi, anche quantità abbastanza importanti come appunto i classici 16GB che ormai consigliamo praticamente per tutte le configurazioni uno per il costo che hanno assunto ormai le memorie RAM e due per ovviamente l'importanza che hanno i giochi per PC sempre di più man mano che passa il tempo e le risoluzioni che si alzano in questo senso trovate oggi delle Ballistic Sport a 63€ in doppio banco da 8GB a frequenza 3000MHz delle Vengeance RGB Pro, quindi già modelli interessanti di Corsair a 160-150€ all'incirca rispetto ai 200 e passa che è il loro prezzo normalmente, sono sempre 16GB e in questo caso a 3600MHz, quindi una frequenza addirittura più alta e sempre in configurazione Crucial trovate altri modelli che ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione assieme, sempre legato al discorso memorie però in questo caso di tipo differente tante piccole chicche come delle chiavette, sempre ovviamente in salsa SanDisk ma anche delle SD e microSD ultra veloci di standard U3 ad esempio per registrare in 4K nel caso in cui appunto vi interessasse sia nelle modalità Action Cam con delle microSD sia anche per delle mirrorless o delle camere più professionali per registrare in 4K SSD si parla sempre di memoria, sì però in questo caso dedicata al nostro computer ci sono offerte carine a partire dall'MX500 di Crucial che bene o male abbiamo visto andare in sconto tante volte nelle occasioni passate, nei periodi come questo in passato negli anni scorsi in questo Prime Day, durante questo Prime Day vedremo diversi modelli NVMe in sconto in particolare oggi una delle offerte più interessanti riguarda il 970 EVO di Samsung che in configurazione da 1TB, in modello ovviamente NVMe, arriva a costare 159 che è un ottimo prezzo, io lo sto già comprando oltre a questo però altro modello molto interessante che tra l'altro viene scontato in due tagli di memoria è il VD Black, sempre in configurazione appunto NVMe, quindi disco M2 super veloce che ha acquisito abbastanza importanza nei mesi scorsi e avete visto anche qui sul canale nella recensione che vi ha portato il nostro Manolo ma ovviamente anche in maniera più approfondita sulle nostre pagine su Tom Sardor e magari ve lo linko da qualche parte qua nel video nelle nostre schede Per i feri che direte, citazione velocissima perché AVM chiaramente non manca mai né col 7490 che arriva a 159 che è scontato appunto di una manciata di euro una ventina di euro se non ricordo male sia con il 7590 più nuovo che scende sotto i 200 euro Altri prodotti immancabili ovviamente sono quelli della serie Logitech in particolare l'MX Master che arriva a 46 euro quindi se cercate un mouse professionale, preciso e davvero che non vi può deludere in assoluto l'MX Master a 45 euro è un top, un best buy e la Logitech C920 webcam nel caso in cui aveste bisogno appunto di un dispositivo di questo tipo in casa anche questa è un top acquisto sui 50 euro come in questo caso Chiudo con una chicca, anche questa è andata spesso in sconto in passato o meglio per quanto riguarda gli smartphone la linea Motorola è andata spesso in sconto in passato in questo caso se cercate uno smartphone per spendere poco come abbiamo detto anche nel video precedente però qui stiamo addirittura a una fascia in basso per quanto riguarda appunto gli smartphone economici diciamo ci sono il G7 Plus e il G7 appunto i Motorola Moto G che scendono rispettivamente a 229 e a 179 appunto è un'ottima scelta nel caso in cui voleste diciamo recuperare un'esperienza anche un po' più stock e poco personalizzata a livello di sistema operativo perché appunto nei Motorola è sempre molto molto simile all'Android Stock anzi praticamente identico poi dalla memoria che ho io ovviamente di questi sistemi quindi se state cercando uno smartphone economico da regalare o da prendere in adozione per voi chiaramente questo può essere un'idea oltre a quelli di cui vi ho parlato già nel video precedente quindi una volta appunto terminate queste offerte io vi ricordo come al solito che qua sotto in descrizione trovate tutti i link divisi per categoria delle offerte in questo caso dedicate a oggi ma vi ricordo anche di continuare a seguirci perché durante la giornata di oggi ovviamente vi proporrò qui su YouTube tramite dei post o delle immagini o degli elenchi o comunque a seconda di quello che uscirà chiaramente per quanto riguarda le offerte lampo e le offerte wow messe online appunto da Amazon in queste ore quindi non dimenticate di continuare a seguirci scrivetevi se non siete già iscritti attivate la campanella e noi ci rivediamo domani con il video l'ultimo video probabilmente dedicato appunto a questo Prime Day con gli sconti di martedì a domani ciao